del 2010 e qui stanno poi due anni dopo, il 2012, poi per lui anche il terzo e il secondo posto da una stessa ottimo, soprattutto l'entrata in acqua, mi ricordo che per i miei testi sul regoletto prevede che ingressi in acqua debba finire perpendicolare con i piedi e le mani raggruppate davanti a tutti, poi non